Ho sempre avuto un po' di mal di schiena, ma improvvisamente mi sono bloccata. Uno dei gemelli piangeva sempre perché voleva essere portato in braccio, ma io non potevo neanche più camminare. Ero disperata. Ho telefonato alla mia assicurazione malattia, del sana. Mi ha procurato qualcuno che si occupasse dei bambini. Così ho potuto curarmi. Oggi posso nuovamente prendermi cura dei miei gemelli. Grazie ai medici, all'ospedale e all'Elzana.